30 milioni di euro per lo scalo merci nell'area industriale di Ponte Valentino a Benevento a disposizione soprattutto degli industriali sanniti che potranno così spedire e ricevere merci, direttamente grazie alla linea alta velocità alta capacità Napoli-Bari ed ancora un ufficio dedicato alle energie rinnovabili e al rilascio delle autorizzazioni di competenza regionale per accorciare i tempi. A rilanciare la vicinanza della regione al Samnio e al tessuto imprenditoriale sannita è stato direttamente il governatore della Campania Vincenzo De Luca durante il suo intervento all'Assemblea annuale degli imprenditori sanniti, guidati da Oreste Vigorito che ancora una volta torna a rimarcare come sia necessario snellire le procedure. Il governatore si è fatto riemergere probabilmente anche dalla memoria burocratica una serie di pratiche che sono avviate e sospese per quello che è il male della società italiana, veti, controvedi e parte da varie autorità. Novità in arrivo anche per la messa in sicurezza dei fiumi. Lo so di un provvedimento regionale che affida al commissario delle ZES, l'avvocato Giosi Romano, un programma annuale nel quale intervenire per quelle che sono le maggiori criticità. Il punto che è vicino allo stabilimento di Rummo, il punto che è sonda sul località Pantano e altri due per un valore di 25-26 milioni di euro. Ed infine le zone ZES. Alcune delle ZES non utilizzate che attualmente occupano posti che non sono nell'area di sviluppo saranno riviste.